Buongiorno e bentrovati. Grazie a un nuovo appuntamento con Mattino 6, l'ultimo della settimana. Iniziamo la nostra rassegna stampa e iniziamo con i quotidiani regionali. Questa è la prima pagina del centro, però questa volta non cominciamo dall'edizione di Pescara, bensì da quella di Chieti con il titolo della notizia principale di ieri, stangata sugli angelini Chieti per il crack di Villapini condannati Vincenzo, la moglie e la figlia. E poi nella fotonotizia Fresa Grandinaria in lutto lavorava a Roma, medico torna per ogni santi e si schianta in autostrada. Un medico di Fresa Grandinaria, come detto, ma in servizio a Roma, è Rionello Longhi, 66 anni che vedete nella fotografia, è morto nello schianto dell'auto guidata dalla moglie contro un'autocisterna sull'autostrada dei parchi nel territorio laziale mentre tornava nel paese vastese per onorare la ricorrenza dei defunti. Il sindaco Di Stefano ha detto che era un grande professionista. E poi nelle cronache, incidente a Crecchio, grave geometra caduto dal tetto dell'abitazione. Un geometra di 43 anni è ricoverato all'ospedale di Pescara dopo una caduta dal tetto di una casa di Villatucci di Crecchio sulle sue condizioni, diciamo, stanno operando i medici ma non è in pericolo di vita. E poi in Chieti, sindaco smentito, doccia fredda, Chieti perderà la sua prefettura. E poi in Lanciano, era una calugna, anziano inventò l'aggressione, il pugile è stato liberato. E ancora, vediamo di spalla, solidarietà. Una donazione per aiutare gli alluvionati di canistro. Questo è il titolo dell'articolo di Roberto Raschiatore. Andiamo a vedere insieme. Rimbocchiamoci le mani che aiutiamo gli alluvionati di canistro. Gente che nel fango ha perso i ricordi di una vita. Rimbocchiamoci le mani che come hanno fatto i tanti volontari nei giorni dell'emergenza e con un piccolo gesto facciamo piovere solidarietà sul comune della Valle Roveto, il più colpito dall'ondata di maltempo di metà ottobre. Questa è un'iniziativa del quotidiano Il Centro, che ha deciso di sostenere su invito del sindaco una raccolta fondi. Il principale obiettivo è quello di rimettere in piedi un parco giochi e far tornare a sorridere i bambini. Il secondo è recuperare l'archivio storico comunale per non disperdere la memoria del paese. Per ricostruire la speranza è sufficiente anche un mattoncino. L'Abruzzo, gentile, così come ha fatto nei terribili giorni del terremoto dell'Aquila, saprà fare la sua parte. Qui vedete i riferimenti per le donazioni. Andiamo nel taglio basso adesso con il Buongiorno Abruzzo firmato da Rossano Orlando agli operai Onda, la pappa al Pomodoro. Questo è il titolo. E poi andiamo anche sotto la testata a vedere cosa propone il centro nella prima pagina di Chieti. Rossoneri in campo alle 15. Si parla della Virtus Lanciano e dunque di Serie B. Torna Mamarella, Lanciano a Cesena a caccia del colpo. E poi il basket di Serie A2, Lillov non basta, Proger Chieti, K.O. con il Brescia. La gara è finita 70 a 73. Andiamo avanti con la lettura del giornale. Adesso andiamo alla prima pagina di Pescara. Il rogo in casa sfratta 11 famiglie. Pescara è evacuato. Un palazzo in via di sotto ai colli. Anziana è finita in ospedale. Vedete la fotografia dell'appartamento devastato dalle fiamme. Nelle cronache no del Ministero. Bonifica di Bussi salta l'accordo. Il sindaco è furioso. Ieri ci sarebbe dovuta essere la firma di un accordo di programma a Bussi per la bonifica e la reindustrializzazione del sito ex Solvay. Invece l'accordo è saltato per il no arrivato dal Ministero dell'Ambiente. E poi in Pescara porta nuova infiltrazioni. Crolla il soffitto alla stazione. A Montesilvano invece residenti infuriati. Lungomare invaso dalle prostitute. Andiamo a vedere sotto la testata del centro di Pescara. Calcio di serie B. Il Pescara all'assalto del Crotone. Capolista Pescara che sarà senza Campagnaro. E poi per quanto riguarda le beghe societarie. De Cecco contattato. Peppe De Cecco conferma di aver incontrato i annascoli. Ma non tornerà all'interno della società del Delfino. Andiamo ancora avanti con le prime pagine del centro. Adesso andiamo a vedere la prima pagina della edizione dell'Aquila. Benzina sulla ex tenta di bruciarla. Vezzano, misura cautelare della Procura, non potrà più avvicinarla. Dunque questo è il titolo di apertura. E poi a centro pagina ancora la tragedia della strada che abbiamo già visto sulla edizione di Chieti. L'autista del tir colpito da un malore, l'altro ucciso in un tamponamento. Tragedie della strada, scusate, muoiono un medico e un camionista. La giornata di ieri appunto è stata caratterizzata da questi due incidenti. Uno sulla A24, l'altro nel Fucino. Nelle cronache, Avezzano, minorenni come schiavi, tre condanne, maltrattamenti di minorenni anziani all'interno di una casa famiglia. Con queste accuse, tre persone sono state condannate dal tribunale di Avezzano. E poi l'Aquila, villa svaliggiata dai ladri per due volte. Ancora la pezzopane, commissione bicamerale sui grandi rischi. Andiamo a vedere anche sotto la testata. Alberghiero, chiusi, cinque laboratori. A Roccaraso, contestate anche carenze igieniche. La preside, un'esagerazione. Si parla appunto dell'alberghiero di Roccaraso. Andiamo avanti ancora con le prime pagine del centro. Adesso andiamo a vedere l'ultima delle quattro edizioni provinciali, quella terramana. Nuove sale parto subite operative. Inaugurazione ieri al Mazzini. Sono state realizzate a tempo di record le nuove sale per le partorienti. E poi la cerimonia in tribunale. Un'aula per Ambrosoli. Il figlio era un uomo onesto. È stato l'avvocato milanese Umberto Ambrosoli, che vedete nella fotografia, ad inaugurare ieri mattina nel Palazzo di Giustizia di Teramo. L'aula intitolata a suo padre Giorgio, ucciso dai sicari di Michele Sindona. Si tratta di un'aula che verrà utilizzata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti. Nelle cronache, dal ministero confermato il taglio della prefettura, il capo di gabinetto del ministro dell'interno Alfano, conferma che nella lista delle prefetture da tagliare c'è anche quella di Teramo. I sindacati dicono che serve una mobilitazione. E poi, sempre in Teramo, il comune misura il lavoro dei dipendenti. E poi a Montorio l'autodromo potrà portare anche le terme. Andiamo a vedere sotto la testata. C'è il richiamo alla notizia che riguarda il processo per il crack del gruppo Villapini, stangata sugli Angelini. Ieri c'è stata appunto la sentenza del Tribunale di Chieti, che ha condannato a dieci anni di reclusione Vincenzo Angelini. ha condannato anche la moglie e la figlia. Cambiamo testata adesso, passiamo sul messaggero. Andiamo a vedere anche la prima pagina del messaggero Abruzzo. La possiamo vedere insieme. Rogo nel palazzo, 12 famiglie fuori casa per quanto riguarda Pescara. Notte di terrore in un condominio dei Colli. E poi il crack Villapini, dieci anni, ad Angelini, non pagava gli stipendi ma acquistava di tutto. Condannate anche la moglie e la figlia. In parallelo all'Aquila, la ringa del legale del Turco per Sanitopoli, condanna insensata quella che invece riguarda l'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco. I due procedimenti in qualche modo sono collegati tra di loro, anche se con percorsi completamente diversi, perché Vincenzo Angelini è il grande accusatore del processo Sanitopoli. Angelini, con le sue rivelazioni alla procura di Pescara, portò all'arresto nel 2008 dell'allora governatore del Turco e praticamente all'azzeramento della giunta regionale di centro-sinistra che allora guidava la regione Abruzzo. Andiamo a vedere anche in queste due finestrelle la tragedia tampona un tir sulla A24, muore un medico e poi un altro incidente stradale nel Fucino, un camion nel canale autista stroncato da un infarto. Poi andiamo avanti, a centropagina, il vice sindaco spiazza PD e Cialente, Trifuoggi, mi candido con una lista civica. Così l'ex procuratore capo di Pescara. E poi nel taglio basso, Chieti, se gli Ultra puliscono la loro curva promessa mantenuta, gli Ultra del Chieti, come annunciato la scorsa settimana, hanno pulito a loro spese una curva Volpi ridotta ormai ad una pattumiera. Andiamo a vedere anche di spalla, soldi europei progettare bene per evitare le figuracce. Ieri a Pescara c'è stato un importante convegno all'Aurum proprio per discutere dei finanziamenti europei POR FESR 2014-2020. Il dirigente dell'Unione Europea, Nigri, parla a categorie sindacati dopo le 192 osservazioni rimediate di recente dalla Regione. Andiamo a vedere sotto la testata del messaggero Abruzzo, il giorno e notte, streghe ballerine e le feste spaventose, il weekend di Halloween, poi il caso, troppe multe ai Varchi ZTL, la Mille Miglia dice addio a Teramo, e ancora il calcio di Serie B, Pescara-Crotone che sballo, il Lanciano ci prova a Cesena. Andiamo a vedere adesso, adesso andiamo sulla città per vedere anche la prima pagina del quotidiano della provincia di Teramo, così chiudiamo la ricognizione sulle prime pagine regionali e poi daremo spazio al meteo. Dunque chiedo alla regia di Gianni D'Areo di contattare il nostro esperto Giovanni De Palma. Intanto torniamo ai nostri giornali, torniamo sulla città. Il punto nascita è un centro benessere, questo è il titolo scelto per raccontare l'inaugurazione delle nuove sale parto all'ospedale Mazzini di Teramo. Da lunedì intanto non si nasce più ad Atri, chiuso il punto nascita. Centropagina la fotonotizia della Mille Miglia, Mille Miglia addio, Teramo fuori dal percorso ufficiale della Freccia Rossa 2016. Sotto la fotonotizia, menze scolastiche, bullismo del comune, Teramo la consigliera Marroni minaccia di rivolgersi ai carabinieri. Vediamo anche di spalla Parco Marino, nuovi guai in arrivo per Dorazio, a Martinsicuro, a Reinquinata, l'Arta presenta dati shock, a Giulia Nuova i genitori bocciano la settimana corta. Sotto la testata, il richiamo alla notizia che riguarda il processo per il crack Villapini, Angelini condannato a dieci anni di reclusione dal Tribunale di Chieti. Ieri c'è stata la sentenza. E poi, per quanto riguarda i protagonisti, una strana specie di complotto filosofico intorno a Delfico e per il Teramo Calcio, Vivarini. Ora possiamo divertirci dunque questa anche la notizia di Lega Pro. Siamo pronti con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org a cui do ovviamente il mio buongiorno. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i tere spettatori. E dunque Giovanni, che tempo farà nel weekend? Sicuramente avremo un tempo decisamente migliore rispetto a quello che abbiamo avuto fino a ieri perché la figura depressionaria, la perturbazione che ci ha interessato nei giorni scorsi attualmente in azione sulle regioni meridionali tenderà ulteriormente a spostarsi verso sud e abbandonare la nostra penisola e di conseguenza il tempo sulla nostra regione migliorerà rispetto ai giorni scorsi. Avremo anche un graduale aumento delle temperature perché tornerà l'alta pressione tornerà l'alta pressione che giungerà soprattutto però nei primi giorni della prossima settimana. Una imponente struttura di alta pressione che alla base dei dati attuali garantirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte della nostra penisola e sulla nostra regione. Tuttavia non si escludono delle formazioni nebbiose soprattutto durante le ore più fredde della giornata in particolar modo nei primi giorni della prossima settimana. Quindi un weekend tutto sommato caratterizzato dal bel tempo anche se non mancheranno residui e annuvolamenti soprattutto tra oggi e domani in particolar modo sul versante orientale della nostra regione ancora esposto a un residuo a flusso di correnti orientali favoriti dall'azione della circolazione depressionale attualmente posizionata sulle regioni meridionali. Quindi un weekend decisamente migliore rispetto a quello che abbiamo avuto nei giorni scorsi con temperature in graduale ripresa ma soprattutto nei primi giorni della prossima settimana credo. Questo è un weekend importante un weekend di festa ovviamente le persone si apprestano a rendere omaggio ai defunti dunque le condizioni mete in qualche maniera in queste occasioni diventano anche fondamentali per fare questi per fare questi omaggi e che questa cosa che è un dovere di ciascuno di noi sappiamo sappiamo anche che nel resto d'Italia continuano ad esserci problemi per quanto riguarda le condizioni meteo con piogge molto forti continuano i problemi anche di dissesso idrogeologico da questo punto di vista Giovanni anche in relazione a quello che è successo qualche settimana fa nella Valle Roveto possiamo stare tranquilli qui in Abruzzo oppure avremo ancora problemi di questo tipo sì al freddo possiamo stare tranquilli perché ripeto non ci sono più perturbazioni di rilievo sulla nostra regione l'allerta massima invece è presente sulla Sicilia e la Calabria Ionica dove nel fine settimana invece purtroppo pioverà davvero tanto ci sarà un concreto rischio di fenomeni alluvionali ma per quel che riguarda la nostra regione non ci sono e non ci saranno perturbazioni di rilievo nel fine settimana e soprattutto anche nei primi giorni della prossima settimana proprio perché tornerà questa figura di alta pressione che ripeto tuttavia potrebbe favorire la formazione di banchi neve nei prossimi giorni sul versanto orientale sulle zone colliniali sulle zone pianeggianti soprattutto durante le ore più fredde della giornata al prezzo e dunque attenzione quando si viaggia in auto grazie a Giovanni De Palma ricordiamo prima di salutarlo tutti i riferimenti per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo partiamo dal sito abruzzometeo.org che vediamo in questo momento e poi le due pagine facebook quella di Abruzzo Meteo eccola qui la vediamo in questo istante e poi la pagina facebook personale di Giovanni De Palma ovviamente sul suo profilo personale e anche su quello di Abruzzo Meteo potete interagire con Giovanni e dunque soddisfare anche le vostre curiosità in relazione al meteo Giovanni sarà come sempre contento di rispondere a tutte le vostre curiosità grazie ancora a te Giovanni ovviamente ti auguro un buon weekend grazie Alfredo una buona giornata e un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 andiamo avanti con la nostra rassegna stampa torniamo sui giornali però questa volta andiamo sui giornali nazionali andiamo a vedere le prime pagine questo è il Corriere della Sera Roma commissario da Milano nominato il prefetto Tronca che dice sono orgoglioso Marino nella conferenza stampa ha detto tante coltellate ma un solo mandante la capitale il sindaco decaduto dopo le dimissioni di 26 consiglieri il premier perso il contatto con la città questo è il commento di Renzi poi andiamo a vedere l'editoriale di Gian Antonio Stella il segnale che arriva da Expo oggi chiude l'esposizione universale di Milano insomma tantissimi i visitatori che hanno che hanno così visitato i padiglioni dell'Expo è dunque un segnale importante per la ripresa anche economica e della fiducia in Italia e poi Telecom Niel sale al 15% ma il governo strategica e Parigi parla di conquista scalata francese al colosso delle telecomunicazioni italiane poi a centropagina i migranti prime chiusure in Germania Merkel sotto pressione un'altra strage di bimbi le accuse all'Europa andiamo adesso sulla Repubblica Marino licenziato accusa il PD 26 pugnalate ma un solo mandante sciolto il Consiglio Comunale arriverà il commissario che sarà il prefetto di Milano Renzi dice nessuna congiura nei confronti del sindaco Ignazio Marino e poi crescono i consumi e l'occupazione giovanile l'Italia vede la ripresa e i senza lavoro scendono all'11,8% il premier dice è l'effetto del Geobact cioè delle misure prese dal governo sul lavoro andiamo avanti la stampa Marino accoltellato da Renzi il sindaco decade per le dimissioni di 26 consiglieri Palazzo Chigi punta al modello Expo per il giubileo imminente il premier nessuna congiura aveva perso Roma e manda nella capitale il prefetto di Milano e poi a centropagina le mie zucche alla conquista di Halloween agricoltore imprenditore romagnolo grazie ad internet vende in tutto il mondo l'inizio 5 frutti regalo del padre dunque delle storie anche interessanti che riguardano i nostri imprenditori andiamo avanti il sole 24 ore in 4 anni è cambiato tutto Draghi faremo tutto il necessario per centrare il nostro obiettivo di inflazione a medio termine dunque l'intervista al presidente della banca centrale europea a metà mandato il presidente della BCE indica le priorità e rivendica e il rischio di frammentazione dell'eurozona è quasi sparito e poi sotto la testata la notizia dei 26 consiglieri di Roma che si sono dimessi per far cadere la giunta Marino arriva il commissario Marino cade accusa Renzi da Milano arriva il prefetto Tronca e poi ritroviamo la notizia che riguarda la telecom e poi i dati sulla disoccupazione giù all'11,8% ma calano anche gli occupati andiamo andiamo avanti il messaggero via Marino c'è il prefetto Expo si rimettono 26 consiglieri decade la giunta sindaco contro Renzi e Partito Democratico accoltellato e lui il mandante Gabrielli nomina il commissario e Tronca in arrivo da Milano sarà affiancato da un Dream Team Renzi volta pagina Roma può ripartire ripeteremo con il giubileo il successo di Expo anche ad Expo c'è stato un commissariamento per così consentire il corretto svolgimento dell'esposizione universale sotto la testata troviamo anche un paio di notizie di sport mondiale in gioco Valentino al contrattacco farà ricorso contro la penalizzazione poi l'anticipo Roma a caccia dello sprint contro l'Inter e sfida Scudetto andiamo avanti il giornale disastro Roma sinistra marziana i consiglieri Dem si dimettono Marino cade accuse il partito e il mandante Renzi gli stessi che ora lo dipingono come un incapace ma che lo avevano scelto e difeso Berlusconi tanto pensa Marchini può unire il centrodestra ovviamente sono partite le manovre per così le elezioni imminenti nella capitale andiamo avanti Libero Roma città aperta in Ignazio Ignaro Marino se ne va restano gli scontrini nel PD sinistra divisa serve il centrodestra per cacciare il sindaco indagato che attacca il partito antidemocratico si prepara una campagna elettorale tra veleni e vendette Renzi alla ricerca di un nuovo Rutelli tra virgolette per perdere ovviamente il giornale Libero sono quotidiani schierati nel campo del centrodestra cosa rimarrà della grande fiera expo ci dà una lezione e divora in O Expo oggi chiude chiude l'esposizione universale di Milano andiamo andiamo avanti il tempo la festa dell'unità la congiure il sindaco marino dimissionato dai consiglieri PD si vendica in diretta tv mi hanno pugnalato in 26 c'è un mandante cioè il premier Renzi così muore il sogno Dem a Roma e qui vedete una foto che ricorda insomma l'assassinio di Cesare e poi sotto la testata c'è un nuovo corvo in Vaticano anzi due la Santa Sede non smentisce lo scoop del tempo sul PC violato e spunta un'inchiesta su un ecclesiastico dunque si torna ancora a parlare di Vaticano il mattino di Napoli Roma svolta con il prefetto Expo via Marino arriva tronca il sindaco accoltellato Renzi ha perso contatto con la città si rimettono in 26 consiglieri e la giunta decade il nuovo commissario dice io orgoglioso e felice Rutelli ex sindaco di Roma dice è finita un'agonia il PD apra una nuova fase così l'ex primo cittadino e poi per quanto riguarda lo sport insignia Mertens la pace su Whatsapp la staffetta i due fantasisti perdonati niente multe per quanto riguarda il Napoli una notizia di economia bonus assunzioni più elevati al sud del rio presente ai cantieri della Napoli-Bari intesa per le modifiche alla manovra andiamo ancora avanti con il giornale adesso passiamo con i giornali passiamo all'unità quindi il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico cambio di stagione Istat registra tra gli effetti del Job Act 192.000 occupati in più sul 2014 e il calo dei disoccupati oggi chiude Expo successo per l'Italia rapporto Union Camere sul boom del Green Italy e poi vedete a fianco alla testata dell'unità ha vinto Expo proviamoci con Roma c'è questo parallelismo con l'esposizione universale rispetto a quello che sta accadendo nella capitale dove Marino come detto ha dato un addio al veleno arriva il prefetto di Milano Tronca andiamo ancora avanti con la lettura dei giornali andiamo a vedere il manifesto golpe romano questa la fotonotizia sempre particolare del manifesto i 26 lunghi coltelli dei consiglieri del PD e del centrodestra colpiscono ed affondano Marino ma non è l'aula Giulio Cesare testimoniare il siluriamento del primo cittadino che accusa Renzi la crisi del comune si chiude senza una pubblica discussione la rottamazione della democrazia ha nominato il commissario Campania a festa in Vaticano per ricordare anche gli scontri che ci sono stati tra Marino e il pontefice sulla Siria un accordo a metà cambiamo decisamente argomento e Obama invia forze speciali vertice a Vienna tra Stati Uniti Russia Arabia Sudita e Iran cessate il fuoco e governo unitario andiamo a vedere il fatto quotidiano per chiudere questa rassegna dei quotidiani di cronaca nazionale Marino va i 101 collusi restano questo il titolo scelto fuori i nomi cacciato il sindaco i complici di mafia capitale rimangono segretati 26 consiglieri si dimettono in Capidoglia arriva come commissario da Milano il prefetto Tronca il marziano attacca il PD e il premier a coltellatori comprate riuniti dal notaio con un unico mandante il riferimento al presidente del consiglio Sabella dice ci ha nascosto il dossier sui compari di Puzzi e Carminati andiamo rapidamente a vedere anche la rassegna dello sport con i principali quotidiani nazionali sportivi la gazzetta dello sport stregateci il titolo di apertura per quanto riguarda Inter Roma a San Siro e scontro tra favorite per il titolo nella notte di Halloween la miglior difesa dei nerazzurri alla prova del miglior attacco dei giallorossi giochiamo con questa sfida mostruosa scudetto o scherzetto questo è insomma il gioco scelto dalla gazzetta dello sport sotto la testata vale in pista con gli avvocati confermato il ricorso personale senza appoggio della Yamaha di Rossi al TAS decisione entro venerdì Valentino a Valencia con un pool di legali spera di ridurre la penalità per non partire ultimo ma c'è un rischio andiamo andiamo avanti il corriere dello sport che Inter Roma alle 20.45 la seconda sfida la capolista De Rossi verso il Sì questo è il sabato della Serie A poi Allegri non rischio alle 18 c'è il derby con il Toro il tecnico della Juve non si sente in bilico sotto la testata Drogbal Bologna clamoroso progetto di saputo che lo ha detto che lo ha sottocontratto il presidente vorrebbe convincerlo a venire in Italia a gennaio andiamo a tutto sport ultimo stadio ma alle 18 Juve Toro vale molto più di un derby dunque questo è il derby della mole Antoniliana sfida verità per Allegri ma anche per Ventura che non vince da quattro giornate e non ha mai espugnato lo stadio dei campioni d'Italia e poi per il Milan Berlusconi inchioda Mihailovic riecco il presidente a Milanello la Champions è un imperativo categorico infine sotto la testata Inter fammi capire Mancini stasera vuol battere scavalcare la Roma capolista dai Cardi mi aspetto gol non scuse chiudiamo la prima parte di mattino 6 per dare spazio ad un piccolo break pubblicitario ma torniamo subito con la seconda parte dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione tra poco eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di mattino 6 torniamo ai nostri giornali regionali e torniamo sul messaggero nella pagina Abruzzo la notizia principale di ieri che riguarda la cronaca giudiziaria Villapini 10 anni ad Angelini per il crack l'ex re delle cliniche condannato insieme a moglie e figlia per bancarotta fraudolenta assolti i tre del collegio sindacale la procura i soldi per la sanità distratti nella holding non pagava gli stipendi ma acquistava di tutto per se stesso l'imprenditore ascolta impietrito il dispositivo dovrà risarcire Unicredit in sede civile andiamo a vedere insieme il servizio 10 anni di carcere la condanna pesantissima che il tribunale di Chieti ha inflitto all'ex patron del gruppo Villapini Vincenzo Angelini accusato di bancarotta fraudolenta documentale patrimoniale condanna di poco inferiore alla richiesta della procura Tiatina che attraverso il procuratore Pietro Mennini e il suo sostituto Giuseppe Falasca avevano chiesto 12 anni di reclusione assieme ad Enzo Angelini condannata anche la moglie Anna Maria Sollecito a 5 anni e 5 mesi e la figlia Chiara a 4 anni e 5 mesi invece sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato Lorenzo Appignani Eugenio Ascione e Giovito Di Nicola i tre componenti del collegio sindacale di Novafin holding del gruppo Villapini per i quali la procura aveva invece chiesto 5 anni di reclusione per omesso controllo il crack del gruppo Villapini è uno dei più ingenti della storia recente italiana quantificato dalla curatela fallimentare in un miliardo di euro mentre secondo la difesa di Angelini varrebbe 380 milioni non è passata la linea dei legali di Angelini che hanno sostenuto per ribattere all'accusa di aver sottratto milioni di euro alle casse di Villapini che il fallimento fosse dovuto ai mancati introiti da 150 milioni di euro a seguito della chiusura dei rubinetti da parte delle asle regionali una tesi questa che si lega a doppio fila ad un altro processo quello Sanitopoli in quel caso Angelini è stato il grande accusatore che con le sue rivelazioni alla procura di Pescara su mazzette pagate alla politica regionale fece scattare nel 2008 la max inchiesta che portò all'arresto dell'allora governatore Ottaviano del Turco e alla decapitazione della giunta regionale di centrosinistra e dunque questo quanto accaduto a Chieti praticamente in contemporanea all'Aquila si stava svolgendo ieri il processo d'appello per quanto riguarda la max inchiesta Sanitopoli che come avete sentito anche nel servizio coinvolge l'ex governatore Ottaviano del Turco dunque la difesa di del Turco contro il primo grado emesso dal tribunale di Pescara campionario di stupefacenti inesattezze e così l'avvocato Gian Domenico Cagliazza ha definito la sentenza di primo grado le arringhe dei legali di ex governatore Quarta Cesarone Cirone Aracu Camera di Consiglio dal 20 novembre dunque siamo praticamente agli sgoccioli tra pochissimo avremo anche la sentenza d'appello di questo processo andiamo a vedere insieme il servizio sono sereno sono un combattente non solo per la mia innocenza ma anche per la trasparenza della vita giudiziaria e poverina una condanna di qualche anno fa spero che il tempo abbia convinto tutti che forse va cambiata per la sentenza Un Ottaviano del Turco sereno e combattivo a pochi minuti dall'avvio del processo di appello di Sanitopoli oramai alle battute finali protagonista della nuova udienza la difesa oltre a quella di del Turco condannato in primo grado a 9 anni e 6 mesi quella di Camillo Cesarone suo ex consigliere regionale condannato a 9 anni e il suo braccio destro Lamberto Quarta a 6 anni e 6 mesi condanne che il procuratore generale Ettore Picardi in sede di appello ha chiesto di confermare seppure con una riduzione di pena la difesa continua invece a chiedere la soluzione e i motivi li ha ribaditi in aula questa mattina al presidente del collegio dei giudici Luigi Catelli uno degli avvocati di del Turco Gian Domenico Cagliazza nel corso di un appassionato a ringa che ha fatto strame di una sentenza basata a suo dire su fantomatiche tangenti da oltre 6 milioni di euro versate dal poco credibile imprenditore della sanità privata Vincenzo Angelini sentenza definita un campionario stupefacente di insensatezze senza nessuna tenuta logica basata sui soli loqui di Angelini e non su prove e riscontri fattuali Cagliazza dunque ripercorso gli anni cruciali delle politiche sanitarie abruzzesi tra il 2007 e il 2008 ricordando tutti i tagli ai principeschi budget delle cliniche private operate proprio da Del Turco 100 milioni in meno di due anni e controlli e le ispezioni da Del Turco introdotte sulle fatture emesse fino allora pagate a occhi chiusi centrale per Cagliazza la deposizione nel processo di Emilio Di Ninni ex presidente della commissione ispettiva noi ci siamo posto il problema che non immergeva da questo tipo di verifica predisposta nessun dato che in effetti rinnesse diciamo conto delle prestazioni effettivamente eseguite cioè c'erano esclusivamente delle fatture non c'erano degli epiloghi di attività tant'è che che abbiamo dovuto richiedere noi alle strutture all'epoca appena arrivati abbiamo istituito dei flussi di informazioni quindi abbiamo chiesto a tutte le strutture di darci il riscontro delle fatture emesse diciamo avete fatturato queste cose ma che cosa avete fatto e dunque l'aspetto stupefacente e logico della sentenza di primo grado ha proseguito i ragionamenti illegali di Del Turco e lo scenario secondo il quale un imprenditore ha continuato a pagare mazzetta ad un presidente della regione descritto come un satrapo affamato di soldi che però intanto continuava a tagliargli il budget a passare al setaccio le prestazioni inappropriate della sua clinica altro protagonista dell'udienza di oggi l'avvocato Giuliano Milia che difende Lamberto IV Camilo Cesarone ancora Ottaviano Del Turco la sentenza d'appello dopo eventuali controrepliche potrebbe arrivare entro novembre Siamo sulla pagina Abruzzo del centro edilizia sociale cambiando argomento alloggi popolari 11.000 vanno sul mercato parte la grande svendita a prezzo medio di 30.000 euro priorità agli inquilini intanto decolla il programma di housing sociale gli interessati sono 150 alloggi Ater per provincia vediamo in questo specchietto riassuntivo a Pescara sono più di 3.000 così come a Teramo a Chieti 4.000 e a Lanciano Vasto poco più di 2.000 mentre all'Aquila agibili nel cratere sono 693 mentre fuori dal cratere sono 2880 e gli inagibili dentro e fuori il cratere del Sisma sono 708 Parliamo adesso di Costa dei Trabocchi pista ciclabile sull'ex ferrovia al bando rispondono in 15 chiusa la gara della provincia di Chieti per la realizzazione della via verde l'appalto deve essere aggiudicato entro il 31 dicembre lavori per oltre 10 milioni di euro cambiamo pagina adesso ritroviamo la notizia che riguarda Sanitopoli accanto invece un'altra notizia importante per i trasporti e in questo caso per l'aeroporto attivato dal 29 ottobre il nuovo collegamento aereo Pescara-Bucarest otopeni grazie ad un accordo siglato con la compagnia Wizz Air lo scalo di Pescara sarà collegato a quello di Bucarest due volte alla settimana ogni giovedì e domenica con arrivo alle 21.25 partenza da Pescara alle 21.55 andiamo nella pagina programmi fondi dell'Unione Europea consultazioni online sul sito della regione e ancora noi con Salvini tre bus dall'Abruzzo per Bologna andiamo avanti e andiamo adesso a vedere la pagina di Pescara paura in via di sotto e possiamo anche vedere le immagini girate ieri proprio fuori dal palazzo andato in fiamme sono 11 le famiglie che sono rimaste senza case il rogo è stato causato da un cortocircuito un'anziana è finita in ospedale evacuato come vedete il palazzo di Cinque Piani del Vecchio il vice sindaco di Pescara ha assicurato lavori con rapidità i condomi intanto sono da parenti oppure in hotel o anche nelle case della GMG poi c'è anche il racconto sul giornale di un testimonio preso a calci la porta per salvare la pensionata i condomini ovviamente si sono accorti del fumo che usciva dall'abitazione e si sono attivati per salvare l'anziana vedete l'appartamento in questa fotografia divorato dalle fiamme andiamo andiamo avanti allarme a Porta Nuova crolla il soffitto in stazione per le infiltrazioni d'acqua si stacca un pezzo di intonaco nessun ferito transennata gran parte dell'atrio questo è accaduto nella stazione di Pescara a Porta Nuova poi ride notturno un cane disturba la banda delle tabaccherie nuovo furto in Viale Bovio 20.000 euro tra soldi e sigarette ma i ladri abbandonano parte del bottino bici marchiate sul telaio per ritrovarle dopo il furto il Consiglio Comunale vara una mozione di SEL per contrastare il fenomeno dei ladri di biciclette controlli anche su vendite e noleggi contro le provenienze illecite e poi scendiamo a centropagina scontro sui gettoni e i consiglieri il Movimento 5 Stelle presenta 400 emendamenti per rendere più rigido l'orario in commissione e poi c'è un'interrogazione sempre dei grillini ponte del cielo illegale senza una variante si parla ovviamente del pontile circolare che Regione Comune vorrebbero installare in Piazza Primo Maggio cioè sul mare prospicente Piazza Primo Maggio centrodestra contro il presidente Blasoli nel tallo basso della pagina delibera sui bagni scoppia la bagarre durante il voto e ancora l'arta diserta la commissione masci comportamento grave per quanto riguarda il rifiuto di partecipare alla commissione di controllo del comune convocata per conoscere nel dettaglio gli accadimenti relativi agli ultimi sversamenti di liquame nel fiume Pescara oggi parliamo parliamo di un argomento un po' più leggero Halloween atmosfere spettrali e musical questo è l'Halloween di Pescara vecchia spettacoli e no gastronomia maschere ed effetti speciali al gran chio party con animazione e quiz a sorpresa ovviamente si avvicina il weekend dedicato all'omaggio ai defunti cimitero raffica di multe c'è chi invia foto ai politici proteste per 60 contravvenzioni nella zona di Colle Madonna per sosta vietata prezzi invariati rispetto al 2014 crisantemi a 1 euro garofani a 50 centesimi andiamo ancora avanti andiamo nell'area metropolitana in particolare ci occupiamo di Francavilla favorisce Luciani 5 consiglieri sfiduciano Paolini Francavilla l'opposizione presenta una mozione contro il presidente del consiglio è prepotente e non corretto a San Giovanni nuovo contratto all'IKEA ma i lavoratori non voteranno ed ora la pagina di Montesilvano Riviera a luci rosse la strada del sesso a pagamento il lungomare invaso da 30 prostitute residenti infuriati i cittadini protestano con il vice sindaco De Martini se lui apre il referendum su Facebook accetto i vostri consigli parliamo adesso dello Stella Maris Maragno rifiutò 100 mila euro Montesilvano Ruggero denuncia non fece i lavori e restituì i soldi alla provincia contestato il progetto dell'Accademia delle Belle Arti di Roma meglio il Misticoni passiamo ad un altro argomento nella pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara salta l'accordo sulla bonifica di bus i ministeri e regione disertano la conferenza dei servizi Solvè ora faremo da soli il sindaco dice è una situazione drammatica andiamo a vedere insieme il servizio un attimo solo che recuperiamo il servizio vediamo se è pronto è saltata la firma sull'accordo di programma per la bonifica e la reindustrializzazione del sito di Bussi sul Tirino in provincia di Pescara questa mattina alla riunione della conferenza dei servizi che avrebbe dovuto sancire la ratifica dell'intesa non si sono presentati né i rappresentanti del ministero dell'ambiente né quelli della regione Abruzzo presenti invece le altre parti interessate il commissario straordinario Adriano Goio e gli esponenti del comune di Bussi della provincia di Pescara della Solvè e del nuovo investitore Filippi Farmaceutica la Solvè che in un comunicato del luglio scorso aveva indicato il 31 di ottobre come termine ultimo per aderire al percorso tracciato nell'accordo di programma ha fatto sapere tramite i suoi responsabili che da adesso in poi si ritiene libera di assumere altre iniziative decisiva per il fallimento dell'intesa la missiva inviata nella giornata di ieri dal direttore generale del ministero dell'ambiente Maurizio Pernice che ha di fatto bocciato l'accordo sottolineando una serie di carenze formali in particolare l'assenza di riferimenti normativi che consentano la partecipazione dei privati la mossa del direttore generale del ministero ha spinto la regione Abruzzo ad inviare un messaggio al comune di Bussi nel quale ha spiegato di essere sostanzialmente in sintonia con il percorso avviato ma di essere intenzionata ad attendere le osservazioni formali che il ministero dell'ambiente avanzerà nei prossimi giorni lunedì prossimo il sindaco di Bussi Salvatore Lagatta spedirà a tutte le parti coinvolte una nuova versione della bozza di accordo emendata con i suggerimenti e le osservazioni di tutti coloro che hanno preso parte alla riunione odierna solo dopo che arriveranno le osservazioni formali del ministero però sarà possibile convocare una nuova riunione della conferenza dei servizi Ad ora ci occupiamo di sanità penne e popoli in lotta per gli ospedali Forza Italia pronto soccorso a rischio al San Massimo Castricone dice polo riabilitativo al Santissima Trinità Restiamo sempre all'argomento sanità ma cambiamo adesso quotidiano e in particolare andiamo sulla città per andare a vedere l'inaugurazione di ieri del punto nascita fra un po' vedremo anche il servizio della collega Elisa Leuzzo le sale parto del Mazzini sembrano un centro benessere ieri come detto l'inaugurazione del polo all'avanguardia per quanto riguarda le nascite 5 mesi di lavori 1.225.000 euro prima di chiudere Atri perché ricordiamo che il punto nascita di Atri è ufficialmente chiuso ma andiamo a vedere insieme il servizio dopo 40 anni è stata fatta una sala parto nuova moderna tecnologica efficiente in questa struttura che è una struttura molto vecchia è costata meno di 2 milioni di euro sono stati lavori realizzati in soli 3 mesi e mezzo grazie all'impegno di una ditta di Teramo e della ASL di Teramo e lo dico anche fin quanto c'è la ASL a Teramo sicuramente queste cose potranno essere governate e l'importante è che però rimettiamo in sicurezza tutto il percorso nascita credo che la struttura di oggi possa garantire il paziente possa garantire la donna il nascituro nei prossimi mesi amplieremo la parte relativa agli ambulatori e così sarà completato l'intervento su Teramo Assessore Paolucci è nel giorno dell'inaugurazione delle sale parto qui all'ospedale di Teramo Atri denuncia è solo un blef assolutamente no bisogna cambiare la sanità e soprattutto il percorso nascita deve essere molto più sicuro di quello ereditato noi stiamo facendo dei lavori a dimostrazione che abbiamo speso di più sul materno infantile per la sicurezza delle madri e dei nascituri attiviamo per la prima volta la STEN e la STAM in provincia di Teramo e quindi noi mettiamo in campo un'operazione che dà più qualità e soprattutto più sicurezza ai bambini e nel giorno dell'inaugurazione il sindaco di Teramo non perde occasione per ricordare che la presenza della dirigenza amministrativa e sanitaria figura a rischio in vista della riorganizzazione della sanità garantisce una percezione più rapida e profonda delle esigenze dei cittadini oggi va fatto un plauso al direttore generale all'AS di Teramo in una prospettiva che non mi lascia tranquillo la prospettiva è quella dell'AS l'unica io non condivido questo percorso noi stiamo sbagliando la regione sta sbagliando io ritengo e ho buoni motivi per farlo che ci sarà che peggiorerà i servizi ai cittadini perché vede la presenza di un direttore generale sul posto che quotidianamente si occupa dei problemi insieme al suo direttore sanitario un direttore generale non lo potrà fare e questa è la prova provata della presenza della costanza del lavoro in questo caso del dottor Fagnano per risolvere un problema importante ecco perché ritengo che il territorio debba avere il suo punto di riferimento sul posto a Teramo così come all'Aquila così come a Pescara e così come a Chiesa adesso ci spostiamo nella provincia teramana Martinsicuro area inquinata dati shock dell'Arta situazione a rischio nei dintorni della zona industriale Truentina il comitato per la salute ha commentato l'avevamo previsto le analisi Arta nella relazione si evidenzia la massiccia presenza di Ipa e Toluene soprattutto negli orari notturni e poi a Martinsicuro sorpreso in casa con la cocaina ed una pistola cambiamo cambiamo testata adesso torniamo sul sul messaggero e andiamo a vedere insieme la pagina dell'Aquila Trifuoggi pronto a candidarsi sindaco con una lista civica il vice non sto complottando per buttare giù questa amministrazione in caso si concretizzasse la candidatura l'ex PM non concorrerebbe alle primarie e poi la ricostruzione ex sede della Carispa che con le sei ditte ha messe il finanziamento per lo strategico Palazzo sul Corso nel tredicesimo elenco che è stato pubblicato ieri poi farmaci scaduti l'inchiesta s'allarga ha coinvolto anche Silveri andiamo avanti la cronaca nera muore per tirare fuori il tir dal canale l'autista un cinquantenne bosniaco è finito con la parte posteriore del mezzo pesante mentre faceva manovra lungo la strada 13 all'interno di un canale l'uomo ha tentato con un argano manuale di tirare fuori il camion ma è stato colto da un infarto che lo ha stroncato e poi in assa l'alberghiero di Roccaraso chiusi cinque laboratori siamo nella nella pagina di Chieti adesso e andiamo a vedere insieme anche le notizie da Chieti e provincia rifiuti lotta ai furbetti ora tolleranza zero per quanto riguarda il comune di Chieti più controlli in strada ed ecco altre guardie ambientali scatta l'allarme dopo il calo della differenziata arriva una nuova convenzione con formula istituti riuniti il caso dei dipendenti entro l'11 novembre i soldi della ASL e degli enti locali per risolvere la vertenza andiamo nella pagina di Lancianova Stortona Sidera il capolinea scatta la mobilità il gruppo campano Rapullino che intendeva rilevare lo stabilimento di Punta Penna ha gettato la spugna nulla da fare per i 50 lavoratori della fabbrica del ferro a confermare il fallimento della trattativa il patron testi poi tampono un tir sulla A24 muore un medico di fresa grandinaria il 66enne abitava a Roma ferita lievemente la compagna traffico bloccato per diverse ore sulla autostrada scendiamo nel taglio basso dragaggio del porto dalla commissione via l'iter per l'assegnazione dei lavori ad Ortona se le domande pervenute in porto delle opere 7 milioni e mezzo colletti del PD ora le valutazioni del caso andiamo avanti adesso torniamo sul centro per cambiare argomento completamente passare alla pagina dello sport ovviamente il calcio di Serie B in primo piano siamo nel weekend siamo alla vigilia del turno di Serie B alle 15 si gioca Pescara Crotone allo stadio Adriatico Cornacchia allarme in difesa Campagnaro e K.O. l'argentino salta la sfida con la capolista dubbio per Benali nelle retrovie torna Fornasier la Padula Cocco in avanti Oddo dice gara interessante tra le due squadre che giocano a viso aperto Juric insegna calcio sfida tra i fratelli Zampano questo è un po' il sunto però adesso andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Oddo è un allenatore che ha idee è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre che fa dell'agonismo della corsa le sue caratteristiche principali sfruttando una certa compattezza di squadra ama attaccare con tanti uomini penso che nessuno si sarebbe aspettato il Crotone prima in classifica dopo nove giornate però tanti si sarebbe aspettati qualche sorpresa non mi faccio condizionare dalle diffide o dalle convocazioni nazionali io valuto partita dopo partita e valuto il fatto che quel tipo di giocatore possa essere non forte perché forte lo sono tutti funzionale a quel tipo di partita le caratteristiche del Crotone sono quelle non credo che sia una squadra che si faccia intimorire da nessuna squadra prova ad andare a fare la partita e ha i suoi concetti indipendentemente dalla squadra che affronta è una squadra aggressiva è una squadra che corre tanto è una squadra che attacca con tanti giocatori e difende con tanti giocatori che fa dell'agonismo la sua caratteristica principale volano sulle ali di entusiasmo che sono primi ovviamente e l'entusiasmo sappiamo che fa tantissimo e di fronte ci deve essere una squadra che sarà più o meno simile noi ci piace fare quello ci piace cercare di andare a prendere in avanti l'avversario in tre passaggi andare al tiro ed è quello che proviamo sempre a fare il Crotone più o meno è simile a noi magari ha delle caratteristiche un po' più ma soprattutto nel modulo da ripartenza il rapporto che c'è tra me e la società è un rapporto che c'è soprattutto a inizio anno quando c'è il mercato poi continuo perché ovviamente si parla si discute e quant'altro però noi siamo concentrati sul terreno verde sugli allenamenti sulle partite quindi quello che succede fuori non ci interessa o meglio non è che non ci interessa non ci tocca più di tanto noi siamo concentrati di andare sul campo allenarci bene e fare bene la domenica è proprio di quello che sta accadendo fuori dalla squadra dallo spogliatoio del Pescara cioè all'interno della società e ci occupiamo adesso De Cecco contattato ma non torno l'ex patron conferma l'incontro con l'ex amministratore delegato Ian Nascoli col calcio chiuso ha detto De Cecco Sebastiani rapporti ottimi il presidente intanto ha detto fide usioni per 6 milioni di euro la perdita ad esercizio di 4,6 milioni non ha nulla a che vedere con la situazione debitoria i tifosi stiano tranquilli dunque arrivano rassicurazioni dal numero 1 della società biancazzurra sempre per la serie B il Lanciano in trasferta al Manuzzi di Cesena torna la difesa titolare per fermare il Cesena ecco Aquilanti e Mammarella contro i bianconeri sempre vittoriosi in casa 100 tifosi al seguito dei rossoneri la settimana prossima è prevista la decisione del Tribunale federale sul rischio penalizzazione per il pagamento in ritardo dell'IVA andiamo adesso in Lega Pro girone B Vivarini il pompiere Teramo devi crescere nelle retrovie il tecnico pensa di rilanciare Amadio domani a Carrara il derby del fattore si giocherà di sabato alle ore 15 adesso andiamo ad ascoltare proprio il tecnico del Teramo Vincenzo Vivarini campionato totalmente nuovo un campionato diverso abbiamo un'intellegatura dell'anno scorso secondo me in questo momento qua abbiamo ancora tanti problemi come ce l'avevamo l'anno scorso adesso per me il campionato passa sul fatto di poter riuscire o meno a colmare i problemi che ha questa squadra perché se riusciamo a trovare quell'equilibrio che avevamo trovato l'anno scorso dopo questo periodo è chiaro che ci possiamo divertire anche quest'anno io sono molto fiducioso perché ho una squadra anche quest'anno che il gruppo è buono ed è disposto diciamo a lavorare se riusciamo a risolvere i problemi che abbiamo adesso ci possiamo togliere la soddisfazione dell'anno scorso Ma Caidi per fortuna penso che oggi si riallenerà con la squadra primo giorno che si riallena quindi sta bene però è chiaro che dopo due vittorie è difficile cambiare quindi è importante che sta bene sta a disposizione se c'è bisogno se c'è bisogno lo teniamo in grande considerazione Vittorini è un giocatore forte un giocatore bello un giocatore da cercare di inserire il prima possibile adesso lui può ricoprire per me un paio di ruoli sia stiamo lavorando come terzino perché ha una gamba importante ed è anche qualitativamente un ragazzo che sa giocare sa trovare le soluzioni giuste guarda sempre le giocate che ha a disposizione a me piace tanto chiudiamo con la Lega Pro parlando dell'Aquila De Sosa è out l'Aquila punta superna il terzino dell'Aquila di Mercurio e la scarsa affluenza dei tifosi allo stadio dobbiamo riconquistarli andiamo rapidamente avanti Lucarelli di Massimo è pronto per la Serie A Serie D il tecnico dell'Avezzano in corona l'ala che dal 16 novembre sarà della Juve a Giulia 9 in arrivo tre francesi in prova presunte fatture false Monticelli nei guai il basket di Serie A2 l'anticipo del palatricalle Chieti rimonta sfumata il Brescia a fare festa la Proger si sveglia tardi e non basta una grande prova di Lilo il secondo stop consecutivo Galli approccio sbagliato alla gara Chieti Brescia è finita 70 a 73 per la palla a mano la carica delle terramanine a uno maschile città Sant'Ageno con Facchini per sfruttare il fattore campo pallavolo al Via la B2 maschile oggi in campo anche Montorio e Paglieta e poi chiudiamo con il calcio a 5 Montesilvano cerca il poker di successi la squadra di Ricci a Napoli con il dubbio burato domani il Pescara reso noto il calendario della UEFA Cup è tutto per questa edizione di Mattino 6 che ovviamente tornerà lunedì puntuale alle ore 7 ma l'informazione di TV6 non finisce qui perché alle 14 alle 19 ci sono le edizioni del telegiornale e poi c'è lo spazio anche per Diretta Stadio per seguire tutte le partite della Serie B dalle ore 15 grazie per essere stati con noi buona giornata grazie per la visione grazie per la visione